Ho cambiato tutto, avete questo soro che io non riesco a darci un c***o, se lui non ha fermi, non ce l'ho chiesto, lasciami riflettere insieme a voi, cosa fischi già, che c***o fischi, era meglio che l'altro, tiri fuori scampo, era meglio fuori scampo, era l'ora che era l'ora, era l'ora. Ora, l'effetto collaterale, l'effetto collaterale di soro è che è un diossino, essendo un diossino, diossino, hai capito meglio, di essere diossina, diossina, non è una bestemmia diossino, è una sostanza tossica, la diossina, non una bestemmia. Fate la lingua, gli atti pubblici della lingua sarta nazionale.